Continuiamo lo studio dei circuiti dove sono presenti più di un componente elementare fondamentale. Passiamo adesso a vedere il circuito RL parallelo, cioè formato da un resistore e un induttore in parallelo. Nella forma più semplice possiamo pensare al circuito come costituito da un generatore e appunto dal parallelo di un resistore e di un induttore. Quindi schematizziamo il nostro circuito. Abbiamo il generatore sinusoidale di tensione V, resistore e induttore L in parallelo. In questo circuito identifichiamo la corrente in uscita dal generatore con il fasore I, la tensione ai capi del parallelo RL ovviamente uguale alla tensione del generatore V, la corrente nel resistore IR e la corrente nell'induttore IL. Con queste correnti nei due componenti identifichiamo le tensioni, poi ai capi dei componenti saranno uguali sempre alla tensione del generatore V. Nello studio del parallelo è più comodo lavorare con le ammettenze invece che con le impedenze, per una questione di semplicità nella soluzione matematica dei nostri circuiti, dove l'ammettenza Y, ricordiamoci, è definita come l'inverso dell'impedenza Z. Nel nostro caso, quindi, l'ammettenza Y del parallelo, come tutte le ammettenze relative a componenti in parallelo, è data dalla somma delle ammettenze dei singoli rami in parallelo. Quindi, l'ammettenza di un generico parallelo è data dalla somma delle ammettenze dei vari rami. Quindi, l'ammettenza Y1 più l'ammettenza Y2, ovviamente somme vettoriali, e così via, un'ammettenza per ogni rame in parallelo. Nel caso del nostro circuito, quindi, l'ammettenza Y sarà data dalla somma dell'ammettenza relativa alla resistenza R più l'ammettenza relativa all'induttore L. Quindi, sappiamo che l'ammettenza per il resistore, essendo l'inverso della sua impedenza, avremo che Y1R sarà uguale a 1 fratto R, quindi all'inverso dell'impedenza di ZR, quindi sarà 1 fratto R, che identifichiamo con la lettera G maiuscolo, e che è la conduttanza del resistore misurata in Siemens. Quindi, la conduttanza non è altro che l'inverso della resistenza, e viene misurata in Siemens, cioè Ohm alla meno 1. Per l'induttanza, abbiamo che la sua ammettenza, quindi l'inverso di ZL, è uguale all'inverso di JXL, che è l'impedenza ZL, quindi diventa uguale a meno J fratto XL, quindi uguale meno J, identifichiamolo come BL, che rappresenta la suscettanza dell'induttore, quindi la suscettanza dell'induttore è la sua ammettenza, e si misura anch'essa ovviamente in Siemens, quindi Ohm alla meno 1, 1 diviso Ohm. A questo punto, che abbiamo le singole ammettenze, scriviamo l'ammettenza della serie come la somma, l'ammettenza del parallelo, scusate, come la somma delle due, quindi conduttanza, meno JBL la suscettanza. Rappresentiamo sul piano di Gauss l'ammettenza, vedete che ha una parte immaginaria negativa, quindi disegniamo il quarto quadrante del piano di Gauss, abbiamo parte reale uguale alla conduttanza G, e parte immaginaria uguale a meno BL, che rappresenta la suscettanza dell'induttore. Quindi l'ammettenza lo rappresentiamo sul piano di Gauss con un vettore che ha parte reale uguale alla conduttanza G, parte immaginaria uguale alla suscettanza meno BL, e angolo caratteristico dell'ammettenza che risulta essere sempre negativo. Lo indichiamo con la lettera PSI e vedete che a questo punto possiamo continuare a scrivere l'ammettenza in forma polare, quindi come modulo dell'ammettenza e fase PSI, e questa espressione vedremo che risulta essere uguale a Y, quindi modulo dell'ammettenza, con fase meno FI, dove FI rappresenta l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo, quindi l'angolo PSI dell'ammettenza risulta essere uguale all'angolo caratteristico dell'impedenza FI cambiato di segno. Quindi, se io qua rappresento il parallelo di RL e questo ne calcolo e ne determino il valore dell'impedenza equivalente, questa impedenza equivalente, facendo i calcoli, risulta avere una parte reale che chiamiamo RP e una parte immaginaria che chiamiamo XP, quindi un modulo ZP è una fase FI, dove la fase FI, quindi l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo risulta, come abbiamo detto, uguale all'angolo caratteristico dell'ammettenza PSI cambiato di segno, quindi FI è uguale a meno PSI, ed è l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo. andiamo a disegnare sul piano di Gauss l'impedenza equivalente del parallelo, avremo una parte reale RP, una parte immaginaria X con P individuiamo il punto avendo quelle coordinate sul piano di Gauss e quel punto individua l'impedenza equivalente del parallelo Z con P che presenta un angolo caratteristico FI che è uguale a meno il valore dell'angolo PSI dell'ammettenza. Ricordiamoci questa relazione importante nel caso del circuito RL in parallelo. Continuiamo a analizzare il nostro circuito e andiamo a disegnare il diagramma vettoriale delle tensioni e delle correnti nel circuito. Per fare questo utilizziamo sempre la legge di Ohm generalizzata che ci dice che la corrente I è uguale all'ammettenza Y per la tensione V ovviamente in forma vettoriale che sarebbe equivalente a V fratto Z ovviamente perché Y è uguale 1 su Z quindi il prodotto dei numeri complessi sarà dato dal prodotto di modulo e fase del primo e modulo e fase del secondo e sappiamo che nel prodotto possiamo fare il prodotto dei moduli è la somma delle fasi quindi nel nostro caso otteniamo che il prodotto dei moduli Y è la somma delle fasi Fiv più Psi quindi abbiamo siccome poi Psi abbiamo detto che è meno FI l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente abbiamo che la corrente risulta essere anche in questo caso sfasata in ritardo dell'angolo FI caratteristico dell'impedenza equivalente rispetto alla tensione di angolo di fase FI V rappresentiamo questo risultato sul piano di Gauss quindi abbiamo una rappresentazione della generica tensione V del generatore con fase FI V dalla precedente espressione abbiamo che la corrente I risulta essere in ritardo rispetto alla tensione V di un angolo pari all'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente quindi la fase FI della corrente sarà data dalla fase FI V della tensione meno l'angolo caratteristico FI dell'impedenza equivalente che ricordiamoci essere uguale all'angolo PSI dell'ammettenza cambiato di segno quindi quindi anche nel circuito RL in parallelo la corrente risulta essere in ritardo rispetto alla tensione e ovviamente vale anche possiamo esprimere al contrario dicendo che la tensione risulta essere in anticipo sulla corrente queste relazioni sono sempre valide l'anticipo e il ritardo dipendono dall'angolo FI caratteristico dell'impedenza equivalente del parallelo o all'angolo PSI caratteristico dell'ammettenza del parallelo vediamo adesso di calcolare le correnti nel resistore e nell'induttore quindi le componenti le due componenti della corrente totale I avremo nel resistore una corrente data dall'ammettenza del resistore per la tensione quindi conduttanza fase 0 per tensione fase V quindi nel prodotto abbiamo il prodotto dei moduli quindi GV moduli e la somma delle fasi dove avremo FI V più 0 e quindi rimane FI V e vediamo che la corrente IR quindi è in fase con la tensione per l'induttore abbiamo che la corrente sarà uguale alla sua ammettenza YL per la tensione e i suoi capi V quindi l'ammettenza sappiamo essere BL con fase meno 90 gradi perché è meno JBL la YL e tensione V con fase FI V quindi prodotto dei moduli avremo BL per V e somma delle fasi avremo FI V meno 90 gradi quindi risulta che la corrente nell'induttore è sfasata di 90 gradi in ritardo rispetto alla tensione V andiamo a rappresentare sul diagramma vettoriale sul piano di Gauss queste relazioni fra tensioni e correnti quindi ricominciamo col disegnare il piano di Gauss con gli assi reale e immaginario ripartiamo dalla tensione V che abbiamo indicato con questo vettore di fase FI V e dalla corrente I con questo vettore di fase FI abbiamo che quindi la corrente I che è data dalla somma vettoriale di R più IL avendo la legge di Kirchhoff al nodo del parallelo quindi la corrente entrante è uguale alla corrente I erogata dal generatore è data dalla somma è uguale alla somma delle correnti uscenti dal nodo che sono la corrente nel resistore e nell'induttore quindi questa somma questa equivalenza vettoriale rappresenta l'equazione di Kirchhoff al nodo dunque abbiamo che come abbiamo visto prima I R avendo fase FI V risulta essere in fase con la tensione V questo vuol dire che il vettore che rappresenta I R giacerà sulla stessa direttrice della tensione V quindi lungo questa linea tratteggiata che si sovrappone al vettore V mentre IL sempre dalla precedente espressione risulta avere fase che è in ritardo di 90 gradi rispetto alla tensione quindi forma un angolo perpendicolare con la direzione stabilita dal vettore V quindi si troverà lungo la direzione perpendicolare al vettore V quest'angolo formato quindi è pari a 90 gradi la somma dei vettori I R e I L deve essere uguale alla corrente I quindi i due vettori sono questi I R in fase con V sommato al vettore I L a 90 gradi in ritardo rispetto a V questo che forma i due lati di un triangolo rettangolo deve essere uguale ed è uguale alla ipotenusa del triangolo che è rappresentata dal vettore della corrente I quindi abbiamo sempre una somma vettoriale I R più I L che deve essere uguale a un altro vettore quindi nella rappresentazione grafica otteniamo il diagramma indicato grafica Grazie a tutti.